58, 9 parti comunque per gli editori, 9 parti, 58 una delega speciale Io scherzo eh, non te la prendere mai, perché io scherzo tantissimo, vai a Tavica Una delega speciale agli amici di Montescudo, alla Rosi, alla Chiara, a Pietro e tutti quanti insomma Hai provata Ivan? Lorenzo! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.